Gara in ottura per la Turris, che allo stadio Americo Liguori ospiterà la Vibonese. I Corallini cercheranno la vittoria dopo il buon pareggio ottenuto al San Nicora contro il Bari. Il match chiuderà il girone di andata della compagine torrese, che si ritrova alla diciassettesima giornata con 26 punti all'attivo, che valgono a momento l'ottavo posto in classifica. La squadra di Mister Fabiano dovrà vedersela con i calabresi, che cercheranno alla loro volta di accolciare il meno 6 in favore proprio della Turris. La Vibonese è a digiuno di vittoria dallo scorso 2 dicembre, quando si impose per 2-0 in trasferta contro la Casertano. Soltanto due i precedenti tra le due squadre a Torre del Greco, con un bilancio positivo per I Corallini con una vittoria nella lontana stagione 1951-52 ed un pareggio. La direzione di gara, che si disputerà nella giornata di domani alle 20.45, sarà affidata a Giuseppe Collu di Cagliari, con gli assistenti Conti, Biffi e Saia. Continuano intanto le riflessioni in casa Turris per le possibili operazioni in entrata ed in uscita. Mancano 17 giorni al rush finale del calciomercato e non sono escluse novità breve, con la società pronta a rinforzarsi nel caso in cui dovessero combinarsi le occasioni giuste. In ogni caso la concentrazione è rivolta verso il campo, con I Corallini chiamati a rispondere all'opportunità di racimolare altri punti importanti per la classifica.